Autostazione di Cosenza, corsie semi vuote, effetto coronavirus, ci spiegano. Il servizio dei bus è regolare anche fuori regione. Gli autisti si sono costituiti in comitato spontaneo, chiedono maggiori tutele, si sono rivolti a tutti i presidi dello Stato, come conferma al nostro microfono il portavoce del comitato. Mi sono interessato a chiamare il 15 00 e non ho avuto nessuna risposta. Ho chiamato il 112, tre giorni fa circa, i carabinieri mi dicevano che loro non erano competenze, nel senso che loro non facevano sanità, di chiamare il 118. Ho chiamato il 118 e ho parlato con un dirigente dove lui in modo molto garbato mi ha spiegato, noi non possiamo fare niente se non intervenire in casi accertati, quindi se noi figurate cosa dovremmo fare. La nostra richiesta era quella che ho fatto il 118, era quella di creare un presidio qui all'autostazione, in quanto sta avvenendo e è venuta nei giorni scorsi una marea di persone provenienti dal nord, che noi parlavamo con i colleghi e ci spiegavano che lì al nord dove loro salivano, che prendevano il pulmo, non avevano nessun controllo. Il 118 mi diceva di andare alla prefettura, sono andato in prefettura, si è parlato con un funzionario della prefettura dove lui diceva che non è competenza nemmeno della prefettura di andare a parlare con la protezione civile. Siamo andati alla protezione, in quel giorno non c'era nessuno, quindi siamo rimasti senza nessuna risposta. Nessun controllo alla partenza né all'arrivo e la preoccupazione cresce. Ognuno di noi a casa ha qualche persona debole, qualche persona anziana, quindi non vorremmo che per colpa di terze persone compromettessimo la loro salute. In vigore in Calabria l'ordinanza della Santelli, che prevede la sanificazione dei mezzi, viene rispettata. Per quanto riguarda la sanificazione, per quanto riguarda la mia azienda, la ditta Prete, a quali sono i responsabili della sicurezza, noi la facciamo abitualmente già da tempo. Da stamattina l'abbiamo intensificata rispetto al decreto che ha fatto ieri la Regione Calabria. Nessuna tutela e ciò che emerge lo avvertono anche i viaggiatori, che hanno limitato al minimo gli spostamenti con conseguenze sugli incassi. Abbiamo ridotto almeno dell'80%, quindi sono due settimane che è proprio un morire.